terremoto a largo della costa marchigiana sospesi alcuni treni ubriaco fa zig zag in autostrada fermato dalla polizia il referendum giustizia spiegato dall'ordine degli avvocati elezioni a tavoletto marozzi candidato sindaco col partito gay università di urbino ecco la nuova campagna di reclutamento buona serata cari amici di rossini tv sul canale 80 e un saluto a tutti coloro che ci stanno guardando sul nostro sito dalla nostra app e in diretta dalla nostra pagina facebook oggi è giovedì 9 giugno apriamo questa edizione parlando delle quattro scosse di terremoto che sono state avvertite in questa giornata con epicentro nel mare adriatico non lontano dalla costa marchigiana fra le province di fermo e ascoli la scossa più potente avvenuta ad 11 chilometri di profondità è stata di magnitudo 4.1 ed è avvenuta alle ore 13 18 nessun danno a edifici o persone ma trenitalia ha precauzionalmente sospeso il traffico ferroviario sulla linea ancona pescara nel tratto fra pedaso e porto san giorgio per alcune verifiche tecniche ed ora passiamo alla cronaca perché un 55enne è stato sorpreso alla guida in autostrada con un tasso alcolemico quattro volte superiore il consentito la polizia stradale quindi è intervenuta in seguito alla segnalazione di una fiat panda vista cattolica procedere proprio a zigzag verso nord urtando più volte in new jersey centrale e laterale della carreggiata autostradale la vettura è stata poi notata al casello di cesena dove prima delle barriere di pedaggio ha effettuato un'inversione ad u per poi imboccare nuovamente l'autostrada verso sud dopo un inseguimento fra la provincia di pesaro e ancona la stradale di fano ha bloccato il pericoloso autista fermandolo per guida in strato di ebrezza con immediato ritiro della patente ai fini della sospensione fino a due anni e con la decurtazione di 10 punti un sessantenne romagnolo portiere notturno in un hotel pesarese è finito in tribunale con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una cameriera ventenne dipendente dello stesso albergo secondo la giovane il collega approfittando di una zona appartata dell'hotel ha cercato più volte di palpeggiarla nelle parti intime la ragazza si sarebbe a fatica liberata dalla morsa dell'uomo chiamando immediatamente le forze dell'ordine la ventenne è stata successivamente portata all'ospedale di cattolica per controlli mentre il sessantenne ha negato ogni accusa ma in attesa del processo è stato recluso nel carcere a villa fastigi domenica 12 giugno si torna a votare per un referendum abrogativo i cittadini quindi sono chiamati ad esprimersi con un sì o con un no nei cinque quesiti relativi alla giustizia che oggi abbiamo quindi approfondito con il presidente dell'ordine degli avvocati di pesaro cinzia fenici domenica 12 giugno si torna a votare per un referendum abrogativo non succedeva dal 2016 si torna a votare per una tematica specifica sul tema giustizia con cinque quesiti che argomentiamo oggi con il presidente dell'ordine degli avvocati di pesaro cinzia fenici dei cinque quesiti sostanzialmente tre riguardano come dire l'ordinamento giudiziario quindi la categoria dei magistrati e altri due invece diciamo hanno delle ricadute un po più ampie perché uno riguarda il decreto cosiddetto severino e l'altro diciamo la le presupposte applicativi delle misure cautelari dunque per quanto riguarda le misure cautelari forse quello diciamo che ha più un impatto più immediato per una più vasta platea di cittadini ormai abbiamo sentito tutti che per applicare una misura cautelare che è quella misura che consente dalla carcerazione fino diciamo a delle forme più lievi di coercizione come gli arresti domiciliari via via scendendo prima di una condanna definitiva in presenza di alcuni presupposti da una parte i gravi indizi di colpevolezza per il fatto per cui si procede e poi i tre presupposti delle esigenze cautelari pericolo pericolo di inquinamento probatorio pericolo di fuga e pericolo dell'iterazione del reato sostanzialmente si chiede con il sì diciamo di eliminare la parte che riguarda la possibilità per il giudice di disporre una misura cautelare personale in presenza del pericolo dell'iterazione del reato allora le ragioni del sì i promotori sostanzialmente mettono in evidenza che nel nostro ordinamento il numero delle persone ristrette in carcere la custodia cautelare in carcere è il più grave diciamo delle misure cautelare naturalmente è diciamo in proporzione molto molto alta rispetto alle persone che sono in carcere per una condanna definitiva e rappresentano che la maggior parte delle misure cautelare sono applicate proprio sulla base del pericolo dell'iterazione del reato gli dicono i fautori del no esistono già dei limiti diciamo che consentono al giudice di applicare non applicare diciamo la custodia cautelare in ragione diciamo di queste esigenze passiamo alla severina allora il decreto severino sappiamo è stato emanato nel 2012 ed è una norma diciamo emanata per combattere la corruzione fondamentalmente diciamo un testo di legge che prevede diverse diciamo ipotesi fondamentalmente le più conosciute sono quelle che riguardano la ineleggibilità incandibilità e comunque la decadenza dei politici in presenza di condanna definitiva per gravi reati la norma il decreto severino prevede anche un'altra ipotesi diciamo nell'articolato normativo che è quella della sospensione dalla funzione in ipotesi di condanna non definitiva i fautori del sì coloro che sono i promotori del referendum rappresentano che è iniquo e contrasta col principio di non colpevolezza il fatto che un amministratore un parlamentare un amministratore locale venga diciamo allontanato dalla funzione quindi venga fatto uscire dal circuito politico dove è stato diciamo eletto alla carica pubblica sulla base di una sentenza non definitiva i fautori del no mettono fondamentalmente in evidenza diciamo questo che il decreto severino non riguarda soltanto per come è formulato il quesito referendario l'abrogazione non riguarda solo questi pazzesi specifica della sospensione ma riguarda anche l'incandidabilità ineleggibilità e decadenza per le condanne definitive quindi dicono sostanzialmente per come è stato formulato il quesito fate cadere tutta la norma vado molto rapidamente i tre quesiti sulla magistratura il primo riguarda le firme diciamo che attualmente i magistrati che si vogliono candidare al csm devono presentare a sostegno della propria candidatura sappiamo cos'è il csm è l'organo di autogoverno diciamo della magistratura il magistrato che intende da candidarsi alle elezioni al csm deve presentare diciamo un numero minimo di firme a sostegno di sottoscrizione a sostegno di 25 i promotori del referendum chiedono di eliminare diciamo questa disposizione per far sì che qualunque magistrato voglia candidarsi possa farlo senza diciamo avere il sostegno di altri sostanzialmente diciamo colleghi mentre invece i fautori diciamo del no mettono da un lato in evidenza il fatto che si tratta di una cosa minimale 25 firme che la riforma diciamo dell'ordinamento non può passare per una simile abrogazione che appunto come dico è minima rispetto diciamo all'assetto e comunque è stato fatto presente da alcuni professori di diritto di procedura civile in particolare che in realtà ogni forma di candidatura ad una funzione diciamo elettiva passa attraverso l'associazionismo allora la separazione delle funzioni sostanzialmente le funzioni sono due quando diciamo una persona vince un concorso in magistratura può decidere di esercitare o la funzione giudicante che è quella del giudice o la funzione recurrente che è quella del pubblico ministero di quello che sostiene l'accusa in giudizio attualmente per come l'assetto normativo è congegnato sono possibili quattro passaggi nel corso della carriera del magistrato e i fautori del referendum vogliono eliminare questa possibilità sostengono diciamo in particolare i sostenitori del referendum che sostanzialmente diciamo per garantire la terzialità del giudice deve essere inibito questo passaggio da una funzione all'altra che invece diciamo crea una commissione che non è in linea diciamo con i principi del giusto processo il nostro processo è un processo di parte con un giudice terzo imparziale i fautori del nome teno invece in evidenza che la vittoria del sì creerebbe un pubblico ministero sostanzialmente proprio diciamo chiuso nella sua logica accusatoria mentre il passaggio delle funzioni in realtà è una ricchezza proprio perché consente diciamo di comunque in qualche modo diciamo il passaggio alla cultura della giurisdizionalità cioè il fatto diciamo che il PM possa comunque diventare giudice o viceversa fa sì che venga potenziata quell'aspetto diciamo che tipico della funzione del PM che è anche quella di ricercare prove a favore dell'accusato il quinto quesito riguarda appunto la valutazione di professionalità dei magistrati i sostenitori diciamo del sì vogliono sostanzialmente che anche i membri cosiddetti laici quindi avvocati professioni universitari possano partecipare a questa valutazione mentre i sostenitori del no mettono in evidenza sostanzialmente che ci sono rischi di incompatibilità l'invito che voglio fare al di là della tecnicità diciamo dei quesiti è di andare a votare il referendum è un strumento di democrazia diretta mi rendo conto diciamo della difficoltà magari per i cittadini di insomma come dire entrare esattamente nel tecnicismo diciamo del quesito però ognuno di noi si può informare può conoscere per poter deliberare In tutta Italia si vota per il referendum giustizia ma in tre comuni della provincia di Pesaro Urbino si votano pure nuovo sindaco e consiglio comunale in questi giorni vi stiamo presentando le candidature di Terre Roveresche, Frontino e Tavoletto e proprio in quest'ultimo comune ha destato particolare attenzione la candidatura di Paolo Marozzi che con il partito gay sfiderà il sindaco in carica Stefano Pompei vediamo Paolo Marozzi candidato a sindaco di Tavoletto un nuovo partito, partito gay come mai avete scelto proprio Tavoletto visto che non siete dalla zona? Allora abbiamo scelto Tavoletto perché a prescindere da dove veniamo crediamo che le nostre competenze possano essere attuate in qualsiasi piccolo borgo comune e non ci siamo candidati solamente a Tavoletto ma in tanti altri comuni perché crediamo appunto al rilancio dei piccoli borghi più che un movimento abbiamo alle spalle un partito vero e proprio nato da poco ma che ha già un assessore in uno dei comuni più piccoli d'Italia e come dicevo prima si è candidato in altri paesi circa 60 comuni in tutta Italia quindi ovviamente oltre all'inclusione sociale c'è anche il rilancio dei piccoli borghi e la valorizzazione del territorio Quali sono i punti principali della vostra campagna elettorale? Per quanto riguarda Tavoletto ovviamente noi non vogliamo assolutamente che i giovani vadano via da Tavoletto quindi il primo punto fondamentale è quello di coinvolgerli tramite dei servizi civili e quindi farli rendere utili per la società per gli anziani soprattutto e per tutto quello che riguarda l'aspetto socio-culturale del territorio abbiamo anche in mente di aprire una casa di cura e accoglienza per gli anziani vogliamo rivalorizzare il territorio, la parte del Villa Fuini che abbiamo perlustrato il loco e che riteniamo appunto che sia un ottimo posto, un ottimo paesaggio per trekking e scampagnate a cavallo ovviamente attingeremo a tutti i fondi del PNRR per riqualificare sia l'aspetto sociale che culturale e artistico di Tavoletto e vorremmo riportare l'acqua dalle sei fonti tavoletane appunto al paese che questo mi sembra già una grande cosa e vorremmo approfittare del fatto che appunto Pesaro è stata eletta come città della cultura europea in 2024 e approfittare appunto di questa elezione per lavorare in sinergia col territorio di Pesaro e ci sono tante strutture a Tavoletto sfitte o comunque in vendesi che a nostro avviso potrebbero essere usate sia a scopo artistici che turistici anche non so magari coinvolgendo Erasmus+, piuttosto che Gemellaggi partiamo dal presupposto che noi fondiamo tutta la nostra campagna elettorale sulla comunicazione come dicevi tu non siamo del posto quindi ci siamo affidati a delle persone di fiducia che vivono Tavoletto a 360 gradi perché sono di lì quindi c'è stato proprio uno scambio di energie e di opinioni ci hanno aiutato molto a capire degli aspetti che noi ovviamente non saremmo mai riusciti a capire se non avessimo avuto il loro supporto quindi sì è proprio uno scambio di idee, di pensieri e soprattutto di dialogo Ed ora ci spostiamo a Urbino perché proprio questa mattina è stata presentata all'università la nuova campagna di comunicazione rivolta ai ragazzi che vogliono scegliere appunto il percorso universitario Amiche amici di Rossini TV oggi siamo nell'atrio della sede principale dell'università degli studi di Urbino si terrà la conferenza di presentazione del piano di comunicazione il piano attraverso il quale si tenterà di reclutare matricole per il prossimo anno accademico Questa scelta come credo è stato fatto un paio d'anni fa cioè quella di comunicare tramite il sentimento degli studenti più che mandare dei messaggi pensati da qualcun altro quindi abbiamo voluto coinvolgere gli studenti in questa campagna di comunicazione e capire quali fossero i messaggi ai quali fossero più sensibili La nostra idea è stata quella di dare voce alle studentesse e agli studenti affinché spiegassero ad altri potenziali studentessi e studenti come muoversi all'interno della nostra università perché venire a Urbino e quali sono i valori principali della nostra università Così è nata l'idea di far curare da Paolo Iabichino una campagna di comunicazione fatta appunto da pari per i pari e costruire un modello nuovo di racconto dell'università uscire dai cliché e lavorare su una vera e propria campagna manifesto perché è quello che hanno proposto le ragazze e ragazze nel corso di laurea magistrale in comunicazione e pubblicità per le organizzazioni che è un loro modo di dire le cose e di collocarsi all'interno del mondo e nel farlo di dare una collocazione alla nostra università La campagna di matricolazione è diventata una campagna militante in cui l'università di Urbino, grazie alle scritture di questi ragazzi e di queste ragazze prende posizione decisa ricorda ai suoi futuri iscritti, alle iscritte insomma quale deve essere il ruolo di un'università, quale deve essere il ruolo di un docente come accogliere un esame e come in buona sostanza fare dell'università una comunità all'interno del quale inserirsi per diventare non solo buoni studenti ma soprattutto buonissimi cittadini E vi ricordiamo che potete approfondire questo argomento relativo alla nuova campagna di comunicazione dell'università di Urbino nello speciale che manderemo in onda su Rossini TV lunedì 13 giugno alle 21.20 Ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni che come sempre vi invitiamo a mandarci al nostro numero whatsapp 370-366-7210 e oggi vi mostriamo queste immagini che fanno riferimento al quartiere pesarese di Tombaccia in via Fano all'incrocio con via Milano dove si può notare una vasta area incolta con una vegetazione che invade le aree di sosta costringendo i conducenti d'auto a parcheggiare al di fuori della segnaletica orizzontale In tal proposito ricordiamo che abbiamo intervistato il presidente Aspes Luca Pieri in un'intervista recentemente rilasciata a Rossini TV dove ha sottolineato la complessità relativa alla quantità di aree incolte da curare in città garantendo però che Aspes in queste settimane procederà a ogni taglio del verde arretrato Ed ora diamo spazio a un'altra segnalazione quella che ci arriva da Monbaroccio a postarla su Facebook è stato lo stesso sindaco Emanuele Petrucci che con un video testimonia un deplorevole imbrattamento della chiesa di Villa Grande Amiche e amici monbaroccesi buongiorno a tutti Questa mattina sto venendo al lavoro andando verso il comune Ho una segnalazione da parte di alcuni miei cittadini Mi trovo presso la chiesa di Villa Grande di Monbaroccio la chiesa di Santa Giovanna dove sono cresciuto Qui trovate di Trimella Piste di Patinaggio E queste sono le scritte che troviamo sul muro della nostra chiesa la valorizzazione del nostro patrimonio a questo rispetto da parte di qualcuno con qualcuno che adesso cercheremo di intercettare per far sì che non solo sistemi tutto ma non lo faccia più perché questa è male educazione in un patrimonio artistico e culturale del nostro territorio che non ci possiamo permettere quindi chi ha segnalazioni da darmi nel merito prego tutti di indicarmene il sindaco è a disposizione e il resto lo faremo con quella che è la nostra polizia locale scritte del genere che inneggiano a qualcosa che oggi non si può accettare per di più sul muro della nostra chiesa scusate ma mi ha rovinato la giornata approfondiremo quello che dovremo approfondire con le forze dell'ordine Buona giornata a tutti Da Monbaroccio andiamo a Colli al Metauro ed esattamente alla Villa del Bali perché sabato ospiterà la prima tappa della nuova iniziativa dal titolo Conterranea Parte Conterranea il nuovo format ideato e voluto dai comuni dell'areale della DOP quali Cartoceto, Monbaroccio, Colli al Metauro e Fano e sabato 11 giugno inizia un viaggio alla scoperta delle eccellenze agroalimentari del territorio olio in primis sarà accoglie al Metauro e inaugurare i tanti percorsi possibili fra inogastronomia, scienza, storia, spiritualità, natura e arte grazie a tutti Conterranea vede l'organizzazione fondamentale delle proloco di Cartoceto, Monbaroccio, Serra Ungarina Monte Maggiore al Metauro e Saltara con il patrocinio della regione e il supporto delle main sponsor Osteria del Cardinale ad aprire il tour l'11 giugno sarà la Cinquecentesca Villa del Bali Museo della Scienza unico nel suo genere Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Dopo la tappa al Bali il viaggio di Conterranea porterà a Monbaroccio il 2 luglio nei giardini di Palazzo del Monte per poi chiudersi il 9 luglio a Cartoceto sulla terrazza Belvedere che ospita il Teatro del Trionfo Sabato 11 giugno alle ore 18 verrà inaugurata la nuova sede dell'Unicef in via Mazzolari a Pesaro la sede si propone di essere un luogo per parlare di diritti umani soprattutto riferiti ai bambini prime vittime dei conflitti ma anche un posto per offrire alle mamme uno spazio sicuro per accudire momentaneamente i loro piccoli e allattarli un innovativo Baby Pip Stop organizzato con la collaborazione del club Sor Optimist di Pesaro e sempre sabato 11 giugno alle ore 21 nel cortile d'onore della Rocca di Gradara si potrà assistere a Da Byron a Borges Francesca da Rimini nella poesia e nella musica romantica fra 8 e 900 si tratta di un appuntamento inserito nella rassegna Gradara Castello della Poesia in una performance di testi poetici e teatrali dedicati alla passione di Paolo e Francesca proposti da Ferruccio Farina e Silvio Castiglioni Pesaro, Vallefoglia e San Costanzo si uniscono in Perticari 200 una rassegna di tre weekend volta a celebrare il bicentenario della morte dell'intellettuale Giulio Perticari che segnò la vita culturale ottocentesca dei tre comuni in questione Tre comuni coinvolti per altrettanti weekend di celebrazioni di Perticari 200 Pesaro, Vallefoglia e San Costanzo uniscono il loro fervore culturale e la minuzia di ricerca storica e archivistica per celebrare il bicentenario della morte del conte Giulio Perticari intellettuale e letterato che segnò la vita culturale di Pesaro Sant'Angelo Nizzola e di quella San Costanzo in cui morì il 26 giugno 1822 Ricorrenza importante per un uomo importante perché Giulio Perticari è stato sicuramente uno degli snodi proprio culturali importantissimi per questa città ma anche per il territorio anche per il cenacolo letterario culturale e politico che lui aveva creato in questa città e non solo appunto anche nelle due città d'adozione Sant'Angelo Nizzola e San Costanzo per questa città Giulio Perticari ha rappresentato veramente la rinascita attraverso la grande fabbrica del teatro il teatro del sole era ormai obsoleto fatiscente non degno del decoro di questa nostra bellissima Pesaro e fu anche una fabbrica quindi non solo per ricostruire e ridare alla città il tempio laico della città quindi il luogo la piazza al chiuso del ritrovo ma anche perché giustamente Perticari con intelligenza lungimiranza e coraggio capì che dentro un teatro potevano lavorare veramente ogni tipo di poteva lavorare ogni tipo di maestranza da quelle più artistiche gli scenografi i pittori i decoratori ai muratori gli idraulici quindi dare veramente tanto lavoro ad una città che in quel momento era veramente in crisi economica Perticari 200 parte con tre giornate concentrate su Pesaro all'insegna di letture concerti approfondimenti il picnic rossignano in veste ottocentesche di domenica agli Ortigiuli che è il luogo pesarese coinvolto nella rassegna assieme a Museo Rossini e Biblioteco Liveriana cominciamo queste celebrazioni dedicate appunto a Giulio Perticari il 10 giugno che è una data particolarmente significativa e lo è perché proprio nel 10 giugno del 1818 venne inaugurato il Teatro Nuovo che era appunto il Teatro Restaurato di Pesaro e questo teatro è stato restaurato per espressa volontà di Giulio Perticari cioè lui si adoperò moltissimo perché la città di Pesaro avesse un nuovo teatro e ce l'avesse chiaramente più adeguato e più anche aggiornato rispetto alle esigenze dell'epoca e lo volle fare soprattutto perché la città stava attraversando un difficile periodo dal punto di vista economico anche sociale e il lavoro del teatro la ristrutturazione del teatro aveva secondo Perticari una importanza valenza proprio sociale ed economica e quindi questa è una data importantissima per la storia non solo di Pesaro ma per la storia della vita di Giulio Perticari e noi abbiamo deciso appunto di inaugurare la nostra esposizione proprio il 10 giugno in coincidenza tra l'altro con un'iniziativa nazionale che si chiama Archivissima che appunto mette in rete tantissimi archivi in tutto il territorio nazionale e quindi diciamo che questa iniziativa avrà anche una valenza nazionale oltre che locale la chiusura della Kermesse sarà il 26 giugno a San Costanzo nell'anniversario della morte di Perticari precedentemente il 19 giugno toccherà a Sant'Angelo in Lizzola celebrare Perticari 200 fra Teatro Branca Chiesa di Sant'Egidio Fonte dei Poeti e Torre dell'Arte 200 anni dalla morte di Giulio Perticari per noi sono importanti abbiamo pensato di costruire un percorso di iniziative insieme alla città di Peso la città di San Costanzo e cercheremo anche in futuro di promuovere iniziative insieme noi pensiamo già ai 500 anni dalla nascita del Conte Pacciotti di Montefabri che fu un grande architetto militare che ha operato in giro per l'Europa importante e anche i rapporti con Pesaro con Papa Albani con Fanno con Urbino e diciamo con Papa Clemente II che sono un po' il turismo religioso e quindi le realtà di questo territorio si uniscono come stanno facendo per festeggiare i 200 anni della morte del Conte Giulio Perticari Eccoci arrivati alla fine del nostro telegiornale ma subito dopo questa edizione ci sarà uno speciale televisivo esattamente alle 20.10 quindi tra pochissimo dedicato all'Unione Sportiva Acli Sporting Tour un appuntamento da non perdere che stiamo seguendo da vicino e che seguiremo anche questo fine settimana mentre subito dopo la seconda edizione del nostro telegiornale quella che vedete solitamente alle 20.40 vi mostreremo alle 21.20 la Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica alla Vitri Friguarena questo reportage di quanto bello è stato questo evento nella città di Pesaro domani torna come di consueto la nostra rassegna stampa con voi alle 7.20 in diretta ci sarà Daniele Sacchi e poi domani sera alle ore 19 una nuova puntata di Vox Pop la voce dei pesaresi Movida e Isole Pedonali il Viale Trieste visto dai pesaresi questo è l'argomento della prossima puntata e poi vi ricordiamo che sabato alle ore 18 trasmetteremo il meraviglioso mondo degli insetti cioè la recita materna della scuola dell'infanzia Sacro Cuore vi ricordo che questo intero spettacolo lo potrete vedere anche domenica alle ore 20.30 ho detto davvero tutto carissimi amici adesso per voi il meteo per vedere come sarà il tempo i prossimi giorni intanto io vi auguro una buona serata grazie a tutti